Musica Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale La Cronaca in apertura. Un rogo dopo le due di notte ha gravemente danneggiato una Lancia Musa e una Fiat 600. Le vetture erano parcheggiate nella zona di via Rimini. Le fiamme si sono sviluppate nell'arco di pochi minuti. Le automobili presse di mira appartengono a una coppia di coniugi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il rogo potrebbe essere di natura dolosa. Ancora fiamme nella notte in città. Farne le spese stavolta tre autovetture, due delle quali andate completamente distrutte nell'incendio all'incrocio tra la via Rimini e via Pericle. Secondo una prima ricostruzione che ipotizza la natura dolosa del rogo, le fiamme sarebbero state appiccate intorno alle due della notte a due autovetture di proprietà di una coppia di coniugi e entrambi fotografi molto noti in città. Ad andare completamente distrutte la Lancia Musa intestata alla donna, parcheggiata all'inizio della via Pericle, è la Fiat 600 dell'uomo che si trovava solo qualche decina di metri più in là, in via Rimini. Il rogo si sarebbe poi steso a un'altra auto, una Renault Cajar, che ha subito danni alla parte posteriore. La dinamica, studiata dagli agenti di polizia arrivati sul posto, indicherebbe chiaramente la natura dolosa dell'atto. L'ipotesi sarebbe confermata anche dal sopralluogo dei vigili del fuoco. Le due auto si trovavano parcheggiate a una decina di metri l'una dall'altra, quindi sarebbe escluso il coinvolgimento casuale della seconda vettura. Entrambe le auto erano nel mirino degli incendiari. Gli inquirenti adesso dovranno cercare di capire il movente dell'atto, la donna tra l'altro è la sorella di un consigliere comunale che subì lo stesso atto incendiario qualche tempo fa. Al momento gli investigatori non escludono nessuna pista. Intanto la recrudescenza degli attentati incendiari e recenti fatti di Vienescemi con la sparatoria di sabato scorso riaccendono i riflettori sulla questione sicurezza in città. Proprio ieri il sindaco Lucio Greco ha scritto al dirigente del settore lavori pubblici e alla Ghelas per invitarli a definire in tempi celeri il procedimento propedeutico all'installazione delle telecamere e agli impianti di videosorveglianza in città, assicurando la corretta posi in opera e il funzionamento completo entro il 30 di novembre. Il tema della videosorveglianza era stato il centro della riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza indetta dal prefetto Chiara Armenia, nel corso del quale sono state impartite precise direttive finalizzate a garantire un maggiore controllo delle aree urbane attraverso un più razionale ed efficiente impiego della polizia urbana e l'accelerazione dei lavori di messi in opera proprio delle nuove telecamere di cui il comune si è già dotato, mettendolo a disposizione delle forze dell'ordine. La procedura di gara per la fornitura è già stata espletata da tempo. Gli investigatori sembrano abbiano un quadro ormai piuttosto chiaro di quanto è accaduto lo scorso fine settimana con gli spari in pieno giorno e lungo l'arteria stradale tra le più transitate che è quella di Via Niscemi. I feriti sono stati nuovamente ascoltati per cercare di acquisire ulteriori elementi. Le immagini dei sistemi privati di videosorveglianza della zona sono state attentamente analizzate. In questi ultimi giorni, almeno fino a ieri, ci sono state perquisizioni, oltre agli accertamenti tecnici che erano stati già compiuti nelle ore successive fatti, soprattutto per verificare la presenza di tracce di polvere da sparo addosso a possibili sospettati. Non è da escludere che gli agenti di polizia del commissariato IPM della Procura che stanno coordinando le indagini abbiano già concentrato l'attenzione su un sospettato. Potrebbe essere quello che materialmente avrebbe sparato arrivando ai vieni scemi a bordo di un'automobile. Le perquisizioni sono state effettuate anche nelle abitazioni dei feriti che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze. Sono stati anche ascoltati testimoni che in quei frangenti si trovavano proprio nei pressi del punto degli spari esplosi in direzione di una postazione ambulante di frutta e verdura. Gli inquirenti comunque cercheranno di arrivare non solo a chi avrebbe materialmente condotto l'azione ma anche all'arma usata così da porla sotto sequestro. E non ci furono furti o ammanchi anomali di carburante. Il gruppo del Tribunale ha disposto in un luogo a procedere nei confronti di due dipendenti della GELAS. Erano accusati di aver sottratto carburante necessario per i mezzi della municipalizzata. Sentiamo. Quei pochi litri di carburante in più che venivano immessi in un piccolo bidone servivano comunque ad alimentare il trattore usato per lavori commissionati a GELAS, la società in house del comune. Il lagup del Tribunale Roberto Origio ha disposto in un luogo a procedere nei confronti di due dipendenti dell'azienda, uno ormai in pensione, inizialmente accusati di furto appunto di carburante. La soluzione è stata disposta dal magistrato in udienza preliminare dopo aver vagliato la ricostruzione fornita al difensore dei due lavoratori, l'avvocato Rosario Lumia. Il legale ha fornito tutti i riscontri anche sulle carte carburante. Ha dimostrato che gli operai usavano il quantitativo in più, peraltro minimo, come scorta per il trattore destinato a lavori in aree spesso distanti dalla rimessa dell'azienda. Si trattava principalmente di interventi sul verde pubblico, ma anche in aree risultate incolte. L'ipotesi di accusa era di furto per una presunta sottrazione a danno proprio di GELAS. Invece la difesa ha ribadito che tutti i quantitativi prelevati, peraltro minimi, venivano usati solo per l'attività di manutenzione, come spiegarono i dipendenti in fase d'indagine. Una ricostruzione che ha convinto il GUP portandolo a disporre il non luogo a procedere. Per i due imputati quindi non ci sarà alcun dibattimento, visto che il procedimento si chiude in udienza preliminare proprio con la pronuncia del non luogo a procedere da parte della GUP. E continuano le perdite d'acqua in diverse zone della città. In via Ermocrate da oltre due mesi un tratto della via è costantemente ricoperto da acqua. I cittadini sono stanchi di essere ignorati e nonostante le continue segnalazioni lanciano un appello ai nostri microfoni. Sentiamo. Da oltre due mesi la situazione in via Ermocrate è veramente disastrosa. I residenti non ne possono più e fanno un appello attraverso le nostre telecamere. Una perdita d'acqua che va avanti da due mesi. Da due mesi, esatto. Da due mesi che segnalo a Caltacqua della presenza della perdita. Da due mesi che chiamo anche i vigili urbani per avere una mano di aiuto. Zero, completamente. Due giorni fa ho chiamato anche il sindaco dicendo per favore forse la sua voce sarà molto più forte della mia. Mi ha risposto con una frase penosa. Mi ha detto e io cosa ci posso fare? Cioè, fatemi capire una cosa. Da chi devo andare per risolvere sta perdita? Ditemelo voi perché io non ci sto capendo più nulla. Da due mesi che siamo in panne, da due mesi che siamo a mollo all'acqua. Un problema che si presenta non soltanto per quanto riguarda il mando stradale ma anche per la distribuzione idrica che viene a mancare ai residenti della zona. Esatto. La cosa più orribile è che quest'acqua al di sotto va nelle fondamenta e siamo a rischio, siamo in pericolo. Qualcuno deve venire qui a risolvere. Ho visto solamente due dipendenti di Caltacqua solo per fare le foto. Sono venuti qui a fare le foto. Poi non si è visto più nessuno. È come se tutto è ok. Ok, a posto. Abbiamo risolto. Qui c'è bisogno di un intervento immediato. Come potete vedere alle mie spalle un tratto della strada è completamente allagato e anche il mando stradale inizia a cedere. Da due mesi continuate a chiamare a fare se le relazioni. Più da tre mesi c'è che corre l'acqua perché lui non se ne è accorto ancora prima. Più da tre mesi che corre l'acqua qua. Ci hanno abbandonato tutti. Il sindaco si è messo in lista per prendersi lo stipendio. Ma che cacchio sta facendo questo sindaco qua? Non sta facendo niente. Quando è che c'è lui il paese si è rovinato tutto completamente. Tutto in zero. Avete fatto diverse telefonate e segnalazioni? Telefonate, più da 400 telefonate. L'altro ieri è andata mia figlia alla Catarca. Sì signora, è già segnalato. L'altro ieri mattina ha salito mia moglie lì a uno euro per farsela ricarica le telefonine e ha visto quelle che scappavano. Non sa cosa ci ha risposto il capo condiere? Se è il capo condiere non lo so perché se c'era io lo prendevo e lo mettevo sotto il scappatore. Ci ha detto se no signora ce l'abbiamo con la mano in tasca. Sì signora ce l'abbiamo già segnalato. Forse domani veniamo. Oggi dove sono? E l'acqua qui sta correndo come cose. Puoi fare le foto? Guarda che c'è tutte le mattine. Non si può più fare queste cose qua. I danni spesso registrati al parcheggio Arena in alcune occasioni si sono determinati a causa di veri e propri raid messi a segno da giovani anche minorenni. Sono quattro quelli accusati di aver agito proprio all'interno della struttura danneggiandola. Ne rispondono davanti al gruppo del tribunale minorile di Caltanissetta. Questa mattina due di loro sono stati sentiti e hanno voluto precisare la loro posizione rispetto alle accuse che gli vengono mosse. L'attività di indagine partì a seguito di segnalazioni inoltrate dalle responsabili della GELAS municipalizzata che negli ultimi anni ha avuto la gestione della struttura a ridosso del centro storico. Il gruppo del tribunale nisseno deciderà il prossimo febbraio quando probabilmente verranno sentiti anche gli altri due imputati. Con gli strumenti finanziari ancora non approvati un bilancio di previsione è gravato dal parere negativo dei revisori. Sono tante le difficoltà che affrontano gli uffici comunali e relativi settori. Senza le necessarie coperture finanziarie anche le attività ordinarie iniziano a diventare assai complesse da espletare. Le difficoltà ci sono e il sindaco Lucio Greco anche in questi giorni non le ha nascoste. Senza atti finanziari che non sono stati ancora approvati tutto diventa molto più complesso anche nell'ordinaria gestione dei settori. Due giorni fa il vice sindaco Terenziano Di Stefano è tornato a chiedere di rilanciare gli iter dei programmi di finanziamento che ad oggi hanno assicurato fondi da milioni di euro che però devono diventare gare e lavori da affidare altrimenti il rischio dei definanziamenti rimane sempre dietro l'angolo. La batteria dei dirigenti comunali è scarna e negli uffici non va meglio. In mancanza di strumenti finanziari e delle relative coperture si fa fatica ad avere la disponibilità anche di somme minime per la pubblicazione delle gare. Quella attuale, ora con il rischio che il bilancio di previsione neanche arrivi in aula consigliare è probabilmente la fase più difficile attraversata fino ad oggi dall'amministrazione comunale. Il sindaco Lucio Greco attende una relazione dettagliata dal dirigente Alberto De Petro che dovrà fornire la base per apportare i correttivi allo strumento finanziario nel tentativo di superare le criticità poste nel parere dei revisori. Nei settori non è facile andare avanti e programmare è quasi impossibile. Anche i progetti rischiano rallentamenti notevoli in assenza di bilancio e di coperture comunque necessarie. In giunta, nella maggioranza, tutte queste vicissitudini si fanno sentire anche se gli esponenti più vicini a Greco già respingono qualsiasi ipotesi di sfiducia. Certi che quanto appurato dai revisori con il parere negativo non sia debitabile all'avvocato e alla gestione di questi ultimi tre anni. Il sindaco in più occasioni ha invece richiamato le scelte finanziarie assunte dai predecessori e che oggi ricadono sulla sua amministrazione. Anche per questo motivo una parte dei progreco dribbla la sfiducia considerata una forzatura dell'opposizione. La relazione sulla quale lavora il dirigente De Petro sarebbe già completa e quindi a breve dovrebbe essere trasmessa anzitutto al sindaco e alla giunta sulla base di quanto sarà riportato. Greco e gli assessori potrebbero decidere di rivedere la proposta dello schema di bilancio che è già stata approvata prima che si potesse conoscere il contenuto del parere dei revisori. Gli equilibri sono ancora molto labili e nei prossimi giorni potrebbe delinearsi la direzione sulla quale l'amministrazione comunale vorrà concentrarsi per cercare di superare una situazione complessiva ancora molto difficile. Sarà inaugurato oggi pomeriggio lo sportello SOS Disabili il nuovo strumento di integrazione con il territorio per i soggetti fragili della città che darà un aiuto concreto per promuovere la conoscenza sui diritti e le tutele per una migliore integrazione sociale. Nasce a Gela lo sportello SOS Disabili un aiuto concreto a persone con disabilità e ai loro familiari al fine di promuovere la conoscenza sui diritti e le tutele per una migliore integrazione sociale e vita indipendente. Lo sportello sarà inaugurato questo pomeriggio all'interno dei locali della Casa del Volontariato in via Ossidiano numero 27 nello specifico nella stanza già utilizzata dall'associazione Adoces Sicilia ODB. Questo sportello nasce dall'esigenza quotidiana perché io giornalmente sento richieste che arrivano da soggetti disabili giovani, meno giovani quelli anziani perché vorrebbero avere un servizio dedicato. Noi abbiamo pensato a questo e grazie anche all'intervento del Dottor Antonio Ventura che con le sue competenze ha messo a disposizione le sue competenze siamo riusciti ad attivare questo sportello. Il punto cardine da cui siete partiti qual è? Qual è il punto cardine? Questa è una bella domanda. Noi ci siamo messi dalla parte dei disabili dei soggetti meno fortunati di noi abbiamo detto perché quando queste persone vanno a chiedere un servizio devono fare la fila e allora ci siamo detti creiamo un canale preferenziale un servizio preferenziale per questi soggetti per questi nostri amici per evitare che facciano la fila che abbiano le informazioni corrette e che abbiano soprattutto quello che ci è mancato il rapporto le relazioni noi costruiamo relazioni e quando si costruiscono buone relazioni i risultati vengono sempre. Lo scopo dello sportello SOS Disabili è quello di fare da supporto alla persona e di essere uno strumento di integrazione con il territorio così da dare una risposta alle sempre più crescenti domande derivanti dai cambiamenti sociali. Nel costo degli ultimi anni sono avvenute e tuttora stanno avvenendo delle trasformazioni sociodemografiche che vanno ad incidere notevolmente sulla capacità di rete familiare sociale e della rete dei servizi di sostenere ed assistere le persone non autosufficienti. La Casa del Volondariato è ben felice ad accogliere questo servizio che l'associazione guidata da Giacomo Giurato in questi giorni sta cercando di far partire. Già so che da oggi pomeriggio è operativo quindi il martedì e il giovedì dalle 16 in poi fino alle ore 19 ci sarà qualcuno ad ascoltare le problematiche della gente che ha in questo momento soprattutto chi ha delle disabilità in famiglia. Lo sportello sarà curato da Giacomo Giurato e dal dottor Antonio Ventura in sinergia dai volontari dell'associazione. I giorni programmati sono martedì e giovedì dalle 16 alle 18. La consulenza gratuita riguarderà il diritto all'assistenza e alla provvidenza il diritto alla salute la Carta Europea della Disabilità il diritto allo studio e il diritto all'uguaglianza. Questo sportello viene a dare anche un sostegno psicologico dopo due anni di pandemia in cui queste persone un po' più fragili hanno sofferto ancora di più lo stare da soli. Sì, negli uffici pubblici chiaramente non si poteva andare anche a fare una richiesta più semplice, più banale e oggi abbiamo la possibilità di vederci. Chiaramente dobbiamo evitare gli assembramenti perché la pandemia non è finita quindi dobbiamo sempre stare molto attenti a creare assembramenti. Quindi chi verrà per nome e per conto di un disabile chiaramente porterà la documentazione e avremo la possibilità di farci una bella chiacchierata per dare servizi e per dare soprattutto la possibilità a questi soggetti di soffrire di questi servizi e dei diritti che loro spettano. Il jazz di Samuele Man Mano Group ha conquistato il pubblico polacco con testi dialettali che parlano di Gela un quartetto made in Man Mano con Samuele Voce e Tromba accompagnato da Rocco al piano Isai al contrabbasso Ruben alla batteria nei due concerti del 22 e 23 ottobre in Polonia. Nella scaletta del primo dei due eventi spiega Manuele Man Mano abbiamo inserito composizione del mio album Euforia dove i testi scritti in siciliano parlano di amore della nostra città con Gelas insieme a Standard Jets impostazione classica con un repertorio d'eccezione che ha contraddistinto la seconda tappa polacca del quartetto jazzista gelese. Al termine di un incontro tenutosi ieri il comunale Salvatore Incardona ha confermato il sostegno al progetto politico del sindaco Incardona e contrario alla sfiducia. Sentiamo. Il sostegno al progetto del sindaco Lucio Greco continuerà ad esserci il consigliere Salvatore Incardona l'ha confermato al primo cittadino ieri nel corso di un incontro tenutosi a Palazzo di Città Greco sta cercando di valutare gli umori degli alleati all'indomani delle pesanti polemiche sul regolamento del trasporto disabili ma anche in vista dell'esame degli atti finanziari con il bilancio di previsione accompagnato dal parere negativo dei revisori dei conti piuttosto che optare per un eventuale vertice della coalizione probabilmente l'avvocato Greco incontrerà separatamente gli alleati così da stilare un elenco di priorità programmatiche ma anche per comprendere al meglio quale conformazione potrà avere la giunta fino a conclusione del mandato confronti che il primo cittadino intende condurre consapevole del possibile fardello della mozione di sfiducia che l'opposizione sta man mano definendo in Cardona non sta con l'opposizione e questo l'ha voluto chiarire secondo il consigliere la sfiducia è un suicidio politico non solo per il consiglio comunale ma per l'intera città inoltre richiama la presenza di consiglieri comunali che sfiduciarono l'ex sindaco Domenico Messinese che oggi hanno intenzione Re Greco secondo in Cardona la città non deve andare incontro ad un altro commissariamento così invita tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione ad essere responsabili nel corso della riunione avuto a con il primo cittadino il consigliere che è presidente anche della commissione affari generali ha chiarito il suo intendimento più strettamente politico ricevendo aperture ha indicato delle necessità politiche visto che si è trattato di un incontro comunque molto franco e disteso sono state accolte proprio dal sindaco Lucio Greco e verranno prese in considerazione in Cardona che ormai non fa più parte dell'Udc ma sempre mantenuto pieno radicamento tra le fila dei pro greco attende che possa esserci spazio in giunta per una sua rappresentanza si attende un ruolo ancora più attivo nel progetto che dovrà arrivare fino alla conclusione del mandato del sindaco bilancio e sfiducia permettendo una grande manifestazione a Palermo nel giorno dell'insediamento dell'assemblea regionale siciliana per protestare contro il caro energia in piazza scenderanno le associazioni di categorie e sindacati che in questi giorni hanno scritto il presidente Schifani per chiedere interventi mirati e attenuare così i costi dell'energia le associazioni di categorie e i sindacati hanno promosso e organizzato a Palermo per il prossimo 7 novembre una mobilitazione regionale con chiusura delle attività la manifestazione che andrà in scena in concomitanza con lo seduto e insediamento all'assemblea regionale siciliana è volta a contestare l'eccessivo rincaro dei costi energetici e delle materie prime con conseguente aumento dell'inflazione i vertici regionali di tutte le sigle aderenti facendosi interpreti del forte disagio dalla profonda emergenza che stanno investendo il già fragile tessuto socioproduttivo dei territori hanno espresso grande preoccupazione per la tenuta economica in presenza di una situazione divenuta ormai insostenibile il giorno 7 saremo tutti a Palermo tutti uniti per la prima volta in Sicilia tutte le associazioni elettoriali compatte su un unico tema il caro energia anche perché siamo costretti in questi giorni in queste ore continuano a chiudere attività commerciali per morosità sulle bollette dell'energia elettrica che ormai sono impagabili noi abbiamo ristoranti che erano abituati ad avere 5-6 mila euro che ne arriva 30 mila quello che sta succedendo sono i distacchi tra l'altro infatti abbiamo tutti assieme prodotto un documento che abbiamo inviato al governo regionale e al governo nazionale l'abbiamo fatto nostro tutte le associazioni assieme dove chiediamo per la prima cosa di inserire immediatamente un tetto all'energia permettere la retezzazione per un anno delle bollette preesistenti l'abbattimento del costo dell'energia anche sotto forma del credito imposto invece del 30% al 50% e tutte quelle azioni necessarie a permettere la sopravvivenza del terziario e delle industrie in questo territorio noi oggi siamo ormai arrivati alla chiusura delle attività che hanno già cominciato a licenziare e a chiudere intanto trainito torna sulla situazione gelese dove solo nel centro storico sono oltre il 60% delle attività che negli ultimi mesi hanno chiuso i battenti molte sono quelle che operano nel settore food il problema più grande è quello legato all'energia naturalmente si somma i problemi precedenti che abbiamo avuto col covid la mancanza di personale noi abbiamo moltissimi dei ristoranti che ormai a pranzo non aprono e aprono solo alla fine settimana tutto questo porta a disoccupazione perché tutte le persone che si trovavano a tempo pieno a lavorare oggi non lavorano più se il governo non interviene oggi stesso sul problema energia non sappiamo quale catastrofe ci aspetta lo sport cade l'SSD gela allo stadio Gianni Cosimo di Vittoria dopo la gara di andata finita 1-1 con rete di golisano il ritorno del 16esimi di Coppa Italia di promozione si chiude con l'1-0 in favore dei padroni di casa grazie al gol al 28esimo minuto di Giuseppe Sferrazza una sfida continua tra le due squadre che si ripeterà più volte durante la stagione facendo entrambe parte dello stesso girone il girone di di promozione domenica 30 ottobre il Gela affronterà la cittadiavo l'ottava in classifica davanti ai propri tifosi prestando anche particolare attenzione al match tra Vittoria e Mister Bianco ad appena un punto di distanza al primo posto del Gela e della squadra di Mister Catania è tutto il nostro telegiornale termina qui per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it adesso vi lascio le previsioni Matteo grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito